Non si è fatta attendere la risposta di Umberto D'Annunti, sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, al consigliere regionale Antonio Blasioli, che a seguito dell'interpellanza da Egli stesso presentata in merito alla strada provinciale 614 La Maielletta, richiama la regione ai compiti di vigilanza, esortando l'inizio dei lavori. Un problema annoso, un problema che va avanti da tanti anni, è che aveva portato la provincia di Chieti a chiudere nel periodo invernale questo accesso al rifugio della Maielletta. È chiaro che la regione è intervenuta con un contributo di circa 400 mila euro per fare in modo che la provincia intervenisse su questa strada, però dobbiamo precisare comunque che la proprietà e l'onere della manutenzione e la gestione spettano alla provincia, che avrebbe potuto intervenire con le proprie risorse. Ciò non è stato fatto, non è stato fatto negli anni precedenti della passata giunta regionale, lo ha fatto questa giunta, destinando 400 mila euro per mettere in sicurezza questa strada. Noi ci auguriamo che la provincia rispetti il cronoprogramma presentato che prevede la fine dei lavori per il 31 dicembre 2020 e che per quest'anno questa strada non venga chiusa come negli anni passati. Devo comunque rimarcare come la regione Abruzza ha destinato delle risorse per un intervento di cui tutti ne parlavano, ma nessuno aveva mai trovato una soluzione. È una strada anche molto richiesta dai turisti. Sì, è una strada richiesta dai turisti che comunque nel periodo estivo veniva regolarmente rieperta, però nel periodo invernale scontavamo questo disagio. È chiaro che adesso non ci sono più scuse per tenerla chiusa, la provincia deve intervenire, deve ripristinare il traffico nel periodo invernale e la regione vigilerà affinché questo avvenga anche dopo una volta fatti i lavori.